Come per la cura e il trattamento di congiuntivite. Congiuntivite o occhio rosa è una infezione della congiuntiva, che è la membrana che riveste le palpebra. L'esposizione a un agente patogeno straniero, virus, batteri, funghi, allergie, o corpo estraneo, generalmente provoca congiuntivite. Il corretto trattamento per la congiuntivite dipende principalmente dal tipo di patogeno che causa la condizione. Identificando correttamente i sintomi, si può aiutare il medico a restringere la migliore opzione di trattamento per il vostro caso. Identificare congiuntivite Identificare i sintomi Congiuntivite può avere una varietà di cause diverse, che solo un medico può determinare. Tuttavia, è possibile identificare i sintomi comuni a tutte le forme separati di occhio rosa. I sintomi della congiuntivite comprendono Rossore o gonfiore degli occhi, S Visione offuscata Dolore all'occhio Sensazione gritti nell'occhio, S Aumento della lacrimazione Prurito oculare, S La sensibilità alla luce Consultare un medico se ha causa di esposizione a sostanze chimiche. Si può verificare molti sintomi di congiuntivite se i tuoi occhi sono stati esposti a sostanze chimiche. Se questo è il caso, sciacquare gli occhi con un collirio sterile per circa 15 minuti o, se non disponibile, solo acqua di rubinetto, e poi consultare immediatamente un medico. Capire se si tratta di allergie Questa è una causa relativamente comune per quello che sembra essere congiuntivite ma in realtà è cheratite allergica. I pazienti possono sperimentare i sintomi di cui sopra, con l'accento sulla prurito oculare bilaterale, prurito in entrambi gli occhi. I sintomi sono probabili frequenti ma temporanei sulla base dell'esposizione all'allergene. I sintomi non oculari associati alle allergie includono scolo nasale e starnuti. Questi sintomi sono in genere più pronunciati in primavera o in autunno quando il conteggio polline è più alto. L'esposizione al gatto o peli di cane può anche causare o peggiorare i sintomi. Se si sospetta che le allergie sono la vera causa, provare a trattare con un antistaminico o verteco-unter, come Benadryl, Zyrtec o Claritin. Nota ulteriori sintomi di congiuntivite virale Se il tuo occhio rosa è causato da un virus, allora si può notare sintomi specifici per la versione virale della condizione. Avrete solo sintomi onilaterali agli occhi, in un occhio. Si può inoltre verificare la tenerezza nella linfa preauricolare nodo che si trova proprio di fronte l'orecchio sullo stesso lato, come l'occhio interessato. Questo è generalmente causata da H. Influenza Nota ulteriori sintomi di congiuntivite batterica I sintomi supplementari della congiuntivite batterica definitiva dipendono dal tipo di batteri che causano l'infezione. I più comuni sono il stafilococco batteri della pelle e streptococco. Tuttavia, i batteri a trasmissione sessuale, come la clamidia e la gonorrea, possono infettare anche gli occhi e causare congiuntivite. Stafilococco e streptococco provoca spesso derivano dal lavaggio in proprio mano, frequente sfregamento degli occhi, e o l'utilizzo di lenti a contatto antigenico. All'inizio, è possibile notare unilaterale lacrimazione degli occhi o croste seguita da un rapido salto di sintomi oculari bilaterali. Ciò è dovuto alla natura altamente contagiosa della diffusione dell'infezione rapidamente per l'altro occhio. Per la congiuntivite causata da clamidia, è possibile notare i sintomi più comuni, così come una maggiore quantità di lacrimazione acquosa e significativo croste occhio, ad un livello in cui le palpebre possono essere incollati quando ti svegli al mattino. In aggiunta agli altri sintomi congiuntivite da clamidia, si può inoltre verificare lo scarico verde o giallo dagli occhi se la gonorrea è responsabile per l'infezione. Consultare il medico. Avvisare il medico i sintomi esatti che si sono verificati a causa della vostra congiuntivite. Questo lui o lei confermano che l'infezione sia è davvero la congiuntivite e forse anche la causa sarà di aiuto. Il medico esaminerà gli occhi per aiutare a fare una diagnosi. Questo può includere utilizzando un tampone per verificare congiuntivite batterica. Trattare congiuntivite. Attendere che la congiuntivite virale per chiarire. Come per molti virus, il tuo corpo sarà abbattere l'infezione da solo. La maggior parte delle forme di congiuntivite virale sarà chiaro entro 7-14 giorni senza conseguenze a lungo termine o complicazioni ai vostri occhi. Se il medico determina che un virus più seria, come l'herpes, ha causato i sintomi. Allora lui o lei sarà probabilmente raccomandare un farmaco antivirale. Non tentare di usare gli antibiotici per un'infezione virale in quanto sono efficaci solo contro i batteri. Prendete un ciclo di antibiotici per la congiuntivite batterica. Per i casi lievi di congiuntivite batterica, il medico può raccomandare permettendo così di chiarire da solo. Tuttavia, per le infezioni batteriche più gravi, il medico sarà sicuramente prescrivere antibiotici. In molti casi, la prescrizione sarà per collirio antibiotico o unguenti da applicare al nell'occhio, s. Il medico può decidere che collirio è giusto per te in base alla storia, la sensibilità o la resistenza agli antibiotici precedenti, e o allergie. I sintomi generalmente regrediscono entro 3-5 giorni. Il collirio il medico prescrive per il trattamento di congiuntivite batterica può avere effetti collaterali. Alcuni dei più comuni includono la combustione, occhi rossi, prurito, croccante, o irritati, dolore all'occhio, o un oggetto sensazione di estraneo nell'occhio, s. Se si verificano effetti collaterali più simile a una reazione allergica alle gocce, quindi contattare immediatamente il medico. Queste reazioni possono includere Eruzione cutanea Orticaria Prurito, più in generale la diffusione non solo le prurito agli occhi associati. Formicolio Difficoltà di respirazione o di deglutizione Gonfiore del viso, gola, lingua, labbra, occhi, mani, piedi, caviglie o inferiore delle gambe. Facilitare sintomi della congiuntivite Evitare contatti Se si portano lenti a contatto, passa agli occhiali invece fino a quando i sintomi scompaiono. Il contatto addizionale con l'occhio infetti, s. Può aumentare sia il disagio e la probabilità di diffondere l'infezione. Applicare uno sterile, impacco freddo per gli occhi, s. È possibile elenire alcuni il disagio associato con una infezione mediante l'applicazione di impacchi freddi per gli occhi chiusi. Sigillare po' di ghiaccio in un sacchetto di plastica pulito. Avvolgere con carta stagnola per rallentare lo scioglimento dei ghiacci, e poi avvolgere l'intera cosa con un tovagliolo di carta asciugamano o per renderlo più comodo contro la vostra palpebra. Mettere l'impacco contro il vostro occhio per 5 minuti. Utilizzare un impacco diverso su ciascun occhio per evitare la diffusione dell'infezione, e utilizzare un nuovo impacco di volta in volta. Impacchi caldi non sono raccomandati. Anche se può alleviare qualche disagio, l'ambiente più caldo può creare un ancora migliore terreno di coltura per la congiuntivite batterica. Utilizzare collirio overtech o hunter. Gocce artificiali possono aiutare ad alleviare i sintomi, riducendo la sensazione grintoso nel tuo occhio, esse. Parlate con il vostro oculista sull'utilizzo di gocce lubrificanti in collaborazione con gocce oculari prescrizione. Si può anche mettere le lacrime artificiali in frigo per raffreddarli. In caso di caduta nell'occhio, questo sarà lenire l'occhio ancora più. Evitare la diffusione dell'infezione. Pratica buona igiene. Dal momento che la congiuntivite batterica è altamente infettiva, assicurarsi di lavarsi spesso le mani, mentre si ha la condizione, soprattutto prima e dopo aver toccato gli occhi. Cercate di essere consapevoli di toccare gli occhi e evitare di farlo il più possibile. Evitare la condivisione di oggetti. Il trucco degli occhi, occhiali da sole, asciugamani, e qualsiasi altro oggetto che viene a contatto con gli occhi può trasportare i batteri. Evitare la condivisione di questi elementi con nessuno, e lavare oggetti come gli asciugamani spesso. Utilizzare i tessuti e asciugamani puliti. Quando si pulisce il drenaggio dal tuo occhio, utilizzare sempre un panno pulito per evitare la diffusione dell'infezione nel vostro occhio. Se si utilizza un tessuto per pulire il vostro occhio, assicurati di smaltire correttamente nel cestino. Prendere tempo malato. Non andare a scuola o a lavoro fino a quando i sintomi sono chiarito. Antibiotici per la congiuntivite batterica può anche ridurre il rischio di diffusione dell'infezione. Consultare il proprio medico quando lui o lei scrive la prescrizione per quanto tempo deve aspettare prima di tornare a scuola o al lavoro. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini. Bambini con occhio rosa stanno per essere molto meno vigili su lavarsi le mani e non toccare i loro occhi. Se si prende cura di un bambino con la congiuntivite, prendere questi passaggi più seriamente se stessi per compensare per evitare la diffusione dell'infezione a te stesso. Grazie. Grazie a tutti.